Oltre 90 anni di storia. Tre generazioni di esperienza. La costante spinta ad evolversi e migliorare, superando le difficili sfide del settore. Questa è la storia di Pachelo. Il suo presente e il suo futuro. Tutto comincia dalla passione per i motori. Lì dove ai lubrificanti viene chiesto di più, abbiamo imparato di più. Ma per raggiungere risultati superiori abbiamo soprattutto investito in ricerca e innovazione costanti. Valorizziamo le esperienze uniche dei clienti per tradurle in soluzioni di lubrificazione che facciano davvero la differenza. Solo così siamo potuti diventare degli autentici specialisti. Oggi siamo presenti con i nostri prodotti nei settori auto, moto, costruzioni, trazione pesante, industriale, alimentare, agricolo e nautico. Con una rete distributiva attiva in 40 paesi nel mondo, il nostro sguardo è sempre più globale, restando sempre al fianco dei nostri clienti, come un leale compagno di squadra. Stiamo già lavorando al futuro della lubrificazione. Non smettiamo di imparare e crescere, anche nei nostri spazi produttivi, pronti ad un importante ampliamento. Veniamo da lontano e guardiamo lontano, ai prossimi 90 anni, da specialisti.